Ecco riprendiamo l'appello per chi vuole dare una mano, aspettiamo qui, riprendiamo a lavorare anche noi invece di filmare. Arrivederci a tutti. Fabio, Fabio. Allora adesso terminiamo, basta ci mettiamo a lavorare. Ecco, sta mettendo in moto il trattore dove ha caricato le cose più sensibili, le porterà sull'argine, in alto. Una situazione piuttosto pesante, il Tanaro è qui a qualche centinaio di metri. Siamo in zona Ponte Forlanini, a due passi dal Borsalino. Il nostro amico Giuseppe Monticone sta cercando di salvare le sue attrezzature, è un meccanico oppista, ha sotto alla sua casa, qua non si vede al buio, questa piccola officina che si è costruita nel tempo, tutta per sé. Qui siamo al buio totale, dietro quel prefabbricato a 300 metri scorso il fiume. Adesso, invece di continuare a riprendere, comincerò a dare una mano, anch'io, ecco laggiù Fabio. Arrivederci, che noi continuiamo a lavorare. Arrivederci. Grazie.